Come sapete c'è un gran pezzo di mio cuore sempre in questa città, però ragazzi, questo non si può. In questo mondo con cui abitiamo e viviamo non possiamo più fare queste cose qui. È una storia di Instagram diventata virale, quella che nelle ultime ore sta vedendo protagonista Joe Blair, ex Stella della VL, entrato nella Hall of Fame biancorossa. Blair in questi giorni di vacanza a Pesaro ha dispensato tanti sorrisi nel ritrovare una città in cui è stato tanto amato e continua a ricevere affetto contraccambiato. Sentimenti però declinati in estrema amarezza per un episodio da lui stesso denunciato via social quando, mentre si trovava fuori da una lavanderia di Pesaro assieme ai suoi figli, è stato fermato dalla polizia per una richiesta di documenti, a suo dire determinata dal colore della sua pelle. Un controllo poi decaduto nel momento in cui gli agenti hanno capito che quella persona di colore era l'ex cestista di Serie A Joe Blair, oggi viceallenatore NBA a Washington. Fa troppo caldo dentro quindi siamo venuti qui per sederci fuori e poi ha passato la polizia e sono uscito dalla macchina per chiedere documenti a noi, proprio non a noi perché questo figlio qua ha detto che non ce l'ha, hanno detto va bene non hai bisogno, quell'altro figlio là va bene non hai bisogno, però noi due ci hanno chiesto documenti subito. Io non ho mai avuto nessun problema di questo tipo qui a Pesaro e mi dispiace tanto. Poi dopo che mi hanno chiesto documenti ho dato mia patente americana perché ovviamente non porto il mio passaporto per lavare la roba, hanno preso il mio patente americano per andare a controllare, poi torno dicendo oh tu sei qual'ex giocatore, va bene dai ti lascio andare, ma se non ci fosse un ex giocatore, se sono solo una persona nera che gira intorno a questa città è un problema, dai non va bene, non va bene questa cosa. Io spero che possiamo essere meglio di questo. Parole di estrema indignazione per un giocatore che ha nel cuore quella Pesaro in cui è arrivato 22 anni fa giocandovi due campionati e rimanendo tuttora legato. Io voglio crescere i miei figli nel mondo che non devono mai pensare di questa roba. Tutto lì, dai, God bless. Quasi immediata la replica di Pierpaolo Frega, segretario provinciale del sindacato di polizia SILP che ha scritto, caro Gio Blair, la polizia italiana è talmente avanti e porta come scorta errori del passato che le permettono oggi di essere una polizia civile e democratica e guarda che ti dico a volte fin troppo. Dovresti raccontare realmente come sono andati i fatti perché una verità parziale e di comodo esacerba gli animi e di polemiche inutili riusciamo a crearcele da soli senza l'aiuto esterno di nessuno. Il vero problema è forse che non ti avranno chiesto un selfie o una maglia in omaggio. Chi ti ha fermato ha anni alle spalle di esperienze in strada e ferite della magistratura che ha saputo superare e curare uscendone a testa alta. Caro Gio, ripeto e ti supplico, racconta tutta la verità di come sono andati i fatti. Qui non ci sono George Floyd e il Black Lives Matter da noi non ha ragione ad esistere per quanto è civile, garantista e democratica la nostra polizia. A Pesaro ancora di più. Dunque chiedi un incontro con i poliziotti che ti hanno controllato, fa una diretta a Instagram e chiarisci ma soprattutto racconta la verità.